è da poco terminato l'incontro internazionale di parigi sul clima sulla riduzione di tutto ciò che rende che può aumentare il riscaldamento della terra ed è una cosa che ci riguarda tutti quanti purtroppo chi inquina di più sono sempre ancora i paesi che si dicono sviluppati, più industrializzati e più ricchi e ora chiedono a tutti di fare uno sforzo, questo sforzo è possibile soltanto se ci sarà anche più giustizia nel mondo cosa possono fare i cappuccini? io penso che noi dobbiamo vedere di ridurre anche noi le spese per il riscaldamento dobbiamo anche noi ricorrere a mezzi che inquinano di meno anche noi possiamo evitare lavare qualche piatto in più e usare meno piatti di plastica sono tanti modi che possono migliorare, che possono essere un contributo però dobbiamo crederci, dobbiamo soprattutto credere che facciamo parte di un mondo globale e dove il contributo o l'omissione dell'uno e dell'altro ha un influsso su tutto quindi cari fratelli anche noi dobbiamo metterci con tanta buona volontà ma soprattutto con tanta umiltà per imparare e per vedere quali sono le vie da percorrere insieme per un mondo che deve diventare e essere la casa di tutti e per tutti con un grande rispetto specialmente per i più poveri grazie a tutti